Roba da censura, da vomito. Grande fratello, la frase shock di Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta fa tremare le mura del gran hermano. Parole in italiano, chiarissime per noi, molto meno per gli spagnoli, ma che hanno, un significato che sorpassa di gran lunga anche il trash. Andiamo con ordine però e cerchiamo di capire cosa è successo. Sin dal primo giorno lì, Shaila ha mostrato attrazione per Avier Martinez. Tuttavia, la situazione è evoluta rapidamente. Lorenzo ha confessato che la prima notte trascorsa insieme nella casa spagnola è stata molto intensa, portando i due a scambiarsi il loro primo bacio e a vivere momenti di intimità. In diverse occasioni, Shaila ha condiviso con le sue compagne di reality i dettagli della sua relazione con Lorenzo, descrivendo l'emozione che provava come qualcosa di mai vissuto prima. Ha affermato, mai nella mia vita ho vissuto un'emozione così e ha ammesso di sentirsi innamorata di Lorenzo. Tuttavia, il suo passato recente con Avier ha sollevato dubbi tra i fan e sui social media, dove molti hanno criticato la sua apparente superficialità. Ma sono le frasi di ieri che hanno sconvolto tutti, frasi dure, privatissime, che non si capisce bene perché siano state dette con la consapevolezza di essere ripresi da telecamere e microfoni al collo. Ma cosa è successo in pratica? Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta erano a bordo piscina. Lui l'ha abbracciata e le ha detto senza troppi problemi, amore mio, mi viene talmente di punto o quando ti guardo che non hai idea dove te lo fic.erei dentro. In tutto questo, chiaramente, Shaila si è messa a ridere e ha risposto, ma io ti devo addestrare. Sei un leone senza guinzaglio. Mi squaglio quando mi chiami così. Si mi sciolgo tutta qui. Ma smattame tutta, smattame muco, si dai smattame. Chiaramente i commenti sono stati atroci sui social, ok le effusioni, ma questa roba genera solo secchezza. Ma davvero una donna si emoziona a sentirsi dire queste schifezze? Recitano anche nei momenti di questo tipo. Ho il volta stomaco, non c'è nulla di romantico in questo. Devo cancellare dalla memoria gli ultimi 30 secondi impiegati nel guardare questo contenuto. Non poteva esserci scenario peggiore dell'unione dei questi due. Bella figura che ci stanno facendo fare in Spagna. Non sono bacchettona, ma se un uomo mi dicesse queste cose tutto farei tranne che essere colpita. Io ho evitato di guardare questo schifo da giorni. Che esempio mostriamo in tv? Io sono senza parole. Ma deve chiudere questo programma. Guardate Netflix, prime qualunque cosa ma non il GF. Con questo chiudo. Shaila e Lorenzo ormai bruciati. Ottimo lavoro! E voi? Cosa ne pensate? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.